oggi voglio condividere un video dove eseguo una tecnica di compensazione particolare il modfit in handsfree ho iniziato a sperimentare questa tecnica di compensazione per rispondere a due necessità avere le mani libere durante la discesa e in questo modo riesco ad aggrapparmi all'addome degli allievi e quindi mi sincronizzo alla loro velocità di caduta e anche di identificare tutti gli errori durante le traslazioni e la compensazione la seconda necessità è quella di andare a ridurre le traslazioni aeree profonde in questo modo riesco a preservare i polmoni da eventuali squeeze e anche a gestire dei tempi di apnea più lunghi non voglio prendere tempo al video vi lascio la visione e andrò a commentare a fine tuffo tutti gli aspetti tecnici che riguardano questa tecnica di compensazione la nuova Grazie a tutti. 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 Vi posso garantire che unire il comfort del handsfree con tutti i benefici del matfil non ha prezzo. Invito tutti gli apneisti che sono in grado di effettuare handsfree a provare questa tecnica di compensazione. Non sarà semplice ma vi assicuro che una volta che riuscirete a gestirla riuscirete a superare gli attuali limiti di compensazione in quanto andrete ad eliminare tutte le traslazioni aeree profonde. Per chi invece è incuriosito da questa tecnica, incuriosito da lens frame e non riesce ancora ad effettuarla vi voglio rassicurare non si tratta di un dono, si tratta di semplice coordinazione motoria, si tratta di spendere tanto tempo ad imparare a fare degli esercizi fuori dall'acqua e di altrettanto tempo in acqua a provare, a provare, a provare, a provare. Sono a disposizione in caso abbiate delle domande e vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato.